benvenuti in questa puntata dello zabaglione oggi ci occupiamo di idee folli di idee stupide di idee addirittura pericolose e anche di buone idee di idee che hanno dell'ottimo potenziale che sono interessanti ma che purtroppo vengono travisate da tecnici che hanno la testa scollegata dalla realtà da tecnici che in realtà non sono tecnici ma sono parti in causa interessate a vendere qualcosa a qualcun altro spacciandoglielo come se fosse oro e in realtà è sterco e anche da gente che non ha assolutamente nessuna cognizione tecnica né nessuna conoscenza tecnica che parla molto semplicemente di cose che non conosce ora questo non sarebbe un problema è tutto legittimo ci mancherebbe è tutto assolutamente legittimo e giusto il problema è che se dall'altra parte c'è qualcuno che non capisce bene di che cosa si sta parlando è molto facile rigirargli la frittata e fargli credere una cosa per un'altra ecco parliamo di web 3.0 parliamo di nft parliamo di blockchain e non parliamo più di tanto magari le nomineremo ma non entriamo in quell'argomento non parliamo di criptovalute non parliamo di bitcoin non parliamo di queste cose qui perché c'entrano sì perché c'entrano ma solo marginalmente bene vi do il benvenuto però questa volta faccio una cosa che di solito non faccio e mi presento mi chiamo Andrea Lombardi voi lo sapete benissimo questo è il mio progetto e si chiama c'è di peggio e ho messo il mio primo sito web online credo nel 2000 nel 2000 certamente mi sono collegato a internet precedentemente a quell'anno qualche anno prima qualche volta così di sfuggita ma è dal 2000 che metto online cose praticamente continuativamente tant'è che prima di fare questo mestiere che mi vedete fare adesso ho fatto il consulente di comunicazione e marketing ma ho iniziato in realtà proprio come sviluppatore web ok bene quindi non perché questo sia importante per dire che quello che dico io è giusto ma ne parlo con una certa storia e soprattutto con un certo interesse ok con un certo interesse perché è una cosa che ho sempre seguito il web e quindi mi sembra corretto parlarne anche oggi che si profila all'orizzonte forse secondo qualcuno il famoso e famigerato web 3.0 vi ricordo che qua sotto trovate un bottone sia che voi siate su youtube oppure su twitch perché questa questa puntata la stiamo facendo in diretta su twitch e c'è la gente nella chat che può scrivere fare delle domande a cui alla fine risponderò ma io posso fare tutto questo grazie a voi e se volete sostenermi c'è un pulsante per abbonarvi sia su youtube che su twitch scegliete la piattaforma che preferite con pochi euro al mese potrete dire ok mi piace quello che stai facendo vai avanti a farlo sono pochi soldi per voi ma per me sono tutto perché grazie a quello io posso fare questo mestiere bene da cosa iniziamo per parlare di web 3.0 o web 3 o the third web chiamatelo come volete è la stessa cosa tanto è una cosa che di fatto non esiste e a per l'appunto per arrivare a parlare del web 3 o del web 3.0 devo partire dal web 1 e dal web 2 ecco web 2.0 forse è una cosa che avete sentito nominare tante volte però quanti di voi sanno esattamente che cos'è allora è molto semplice in realtà web 1.0 2.0 3.0 sono tutte definizioni e sono tutti nomi inventati di sana pianta non è come un software che si aggiorna e quindi potete avere photoshop 4 5 6 e 7 no qui è semplicemente un'invenzione ok i protocolli sono gli stessi gli standard tecnologici sono gli stessi quello che cambia sono le tecniche che vengono utilizzate per realizzare le pagine web per per l'appunto perché di web si tratta e allora secondo questa definizione il web 1.0 è il web dei primi anni 90 della fine anche degli anni 90 tecnicamente si definisce web 1.0 quel web che era fatto di pagine html statiche quindi pagine con cui non si poteva avere interazione pagine che tu leggevi e una volta lette non potevi far altro non potevi commentarle non potevi inviare un tuo contenuto attraverso il web all'autore né alle altre persone che la stavano leggendo certo potevi mandargli un'email ma l'email non fa parte del web è un'altra cosa l'email viaggia su un protocollo differente però il web era statico ecco dopodiché ci siamo inventati dei sistemi dei sistemi di programmazione e di interazione tra i server web le pagine web tra le pagine web e i client quindi i browser il google chrome di oggi il netscape di allora o l'internet explorer che dir si voglia e grazie a queste tecniche e a questi nuovi linguaggi di programmazione abbiamo potuto realizzare delle pagine che non erano più statiche e che consentivano pensate un po' una interazione tra l'utente che la stava visitando tra di voi che la stavate guardando e il sito stesso ecco in quel momento è nato il web 2.0 quando è comparso il primo box per scrivere i commenti col pulsante invia è nato il web 2.0 e da lì è stato un tripudio di creatività e di idee per utilizzare questi strumenti queste nuove tecniche e applicarle ai campi più sterminati se ci pensate abbiamo creato e-commerce negozi che potevano vendere online abbiamo creato blog ma non più solo fatti da persone che si scrivevano le loro paginette poi le caricavano su un server web addirittura avevano un'interfaccia di gestione in cui potevano entrare loggandosi quindi creando una sessione al cui interno nel pannello di controllo potevano creare gli articoli e gli utenti i visitatori nello stesso modo potevano leggerli e commentarli potevano scrivere e addirittura poi negli anni utilizzando queste tecniche sempre più avanzate abbiamo costruito siti estremamente complessi tanto che possiamo anche chiamarli e iniziare a chiamarli web app perché vanno al di là del sito web stesso pensate per esempio un twitter pensate per esempio un facebook pensate uno youtube o un twitch che è il sito su cui siete ora ecco il web 2.0 che è un'invenzione perché semplicemente è l'utilizzo di nuove tecniche e di nuovi linguaggi di programmazione all'interno del web 1.0 ok è questa roba qui e ha permesso di creare tutto questo tutto questo che a questo punto sembra praticamente beh tutto possibile possiamo fare qualsiasi cosa che ci venga in mente certo forse non sarà alla portata di tutti non sarà alla portata del singolo però basta avere dei bravi programmatori un certo qual numero di denaro e di soldi che si può realizzare tutto bene però il tutto come al solito il tutto stanca la sensazione di avere in mano tutto da noia beh abbiamo già visto tutte queste cose e poi non so se ve ne siete accorti ma ne abbiamo anche parlato tanto qui beh sono nati diversi diversi problemi all'interno di questo cosiddetto web 2.0 cioè forse non avete contezza della situazione ma in questo momento là fuori si sta scatenando l'inferno da anni peraltro gente che dice che il web ha reso possibili cose agghiaccianti e inenarrabili come per esempio il voto per la brexit nel regno unito e l'elezione di donald trump negli stati uniti e tutto questo che ovviamente è male per i popoli che lo hanno scelto beh è colpa del web perché il web è influenzabile può è diciamo sottoponibile ad attacchi informatici e se ci pensate da questa idea che però in realtà era sopita fin dall'inizio cioè fin da quando il web ha iniziato a salire sul palcoscenico del mondo è germogliata questa idea di dobbiamo fermarlo perché dico che è sempre stata sopita questa idea perché il web insomma nel momento in cui ha iniziato a erodere potere agli editori ai giornali alle televisioni e a quant'altro beh il potere è quello vero quello politico diciamo chiamiamolo così ed economico ha iniziato a guardarlo così tutto un po si tenevano sulla seggiola perché diceva una cosa sta succedendo ci abbiamo messo 40 anni 50 anni 100 anni ad asservire gli editori alle nostre necessità a realizzare e far prosperare un ecosistema di aderenze e di insomma mutui interessi e adesso che era tutto stabile che finalmente funzionava tutto bene che ci impiegavamo tre parole per non far uscire una notizia o manipolarla in una certa maniera o comunque avere sotto controllo la situazione senza che io voglia dare delle connotazioni morali a questo modo di fare perché senza dubbio in alcuni casi potrebbe anche essere necessario per il bene della comunità chiamiamola così in altri casi invece può essere utilizzato malissimo ma che sia buono che sia cattivo che sia neutro chi in quel momento deteneva il potere ha iniziato a dire cosa sta succedendo qua ci fottono qua bypassano tutto la famosa disintermediazione bene e da lì poi utilizzando queste scuse trump la brexit i troll russi la pedofilia online i crimini gli scam le fregature le sole eccetera ovviamente giorno dopo giorno ci si rende conto che effettivamente un po sono scuse un po dei problemi ci sono ma in ogni caso quello che accade è che oggi siamo arrivati a quella che in occidente piace definirsi la crisi della democrazia poi un giorno parleremo di questa cosa e internet in questo ha avuto un ruolo centrale bene fatto sta che ad oggi potete essere d'accordo o meno può piacervi o no non potete negare che ci sia un regime diciamo ma non inteso come regime totalitario ma come regime di cose come stato delle cose che ci sia un regime di diciamo di difficile convivenza sulle piattaforme su facebook su twitter e in generale ovunque perché tutti sono attenti ad evitare che qualsiasi cosa che voi potete anche solo pensare di immaginare di dire che può essere male interpretata sia effettivamente male interpretata saranno pronti a cancellarvi tutto tutti sono attenti a vedere che cosa succede perché c'è questa sensazione che dall'alto insomma ci è stata inculcata nella testa che il web può distruggere tutto che la gente può essere uccisa dalla mala informazione e in qualche caso è vero ma vi inviterei a riflettere sul fatto che nella maggior parte di quei casi per non dire in tutti le persone vengono uccise dalla loro stessa stupidità idiozia ed ignoranza non è l'articolo che ti dice lavati i denti col fornet che ti uccide è la tua stupidità e ignoranza ma questo è il mio parere in ogni caso quello che voglio dire è che siamo di fronte diciamo anche ad un momento di crisi del web nel senso che non sappiamo realisticamente da qui ai prossimi 1 2 3 anni come evolveranno le cose sappiamo che per esempio in europa ci sarà una normativa molto stringente nei confronti delle piattaforme sappiamo che addirittura per legge andranno a chiedere la cancellazione di contenuti che per la legge le altre non sono illegali sappiamo insomma che tutto questo ambiente è una pentola a pressione potrebbe esplodere oppure potrebbe fare una fine diversa in ogni caso è innegabile che stiamo un po sobollendo all'interno del web 2.0 e così così un manipolo di eroi un manipolo di sognatori molto spesso diciamo di fede politica a volte anche incomprensibile contrastante quando non contraddittoria con i fatti comunque questo manipolo di eroi sogna un web diverso e chiaramente allora va da sé e questo deve essere il web 3.0 e attenzione questo nasce questa visione del web 3.0 di cui si va tanto cianciando in questi giorni nasce molto diciamo in maniera molto con fervido sostegno da parte di quegli ambienti che sono quelli che generalmente apprezzano enormemente come fede religiosa quasi il bitcoin e quel mondo lì dove con quel mondo lì intendo dire che c'è all'interno della filosofia di queste persone una grande necessità di anarchia loro lo chiamerebbero libertarismo liberismo estremo ma in realtà è una cosa diversa qua parliamo di anarchia vera e propria vi ricordate quelli col cerchio e la a dentro ecco mi ricordo che negli anni 90 facevano ancora molti incontri per la strada li vedevi in centro delle città con il fuoco con i barili con dentro il la legna che bruciava le loro bandiere con scritto a di anarchia sono tornati e vogliono spingersi verso il web 3.0 capirete perché man mano che vi racconto insomma di che si tratta hanno delle istanze e che in alcuni casi attenzione sono apprezzabili e che io condivido il problema è che la visione è molto complessa e chiaramente quando parlo di anarchia mi riferisco soprattutto al settore dei social media cioè come loro si immaginano i social network nella versione 3.0 del web da altre parti su altri aspetti invece sono semplicemente degli illusi e dei sognatori delle persone un po ingenue con una conoscenza tecnica magari a volte anche approfondita ma una scarsissima conoscenza del mondo reale è una scarsissima capacità di mettere in relazione i loro pensieri e le loro idee sulla tecnologia con l'ambiente circostante cioè con quello che trovano intorno partendo dalle cose basilari dal supermercato fino all'ortolano fino al contadino fino all'allevatore di bestiame e questo li porta a dipingere la possibilità di avere un web 3.0 che è un qualcosa di straordinario è una specie di eden in terra grazie alla tecnologia potremo evitare le truffe potremo evitare di essere fregati da commercianti disonesti da trasportatori ladri da coltivatori mafiosi che vogliono venderci prodotti in realtà di scarsa qualità facendoceli passare come se fossero le cose più belle di questo mondo nasce tutto dalla blockchain questo termine che suona anche bene blockchain ditelo con me blockchain americano tipo what's american boys no come si diceva una volta beh cazzo è una cosa proprio figa se suona così ti riempie la bocca blockchain beh sei un figo quando dici blockchain vuol dire molto banalmente tradotto in italiano perde tutto il romanticismo significa catena di blocchi e tu dici azzo era meglio se stiamo ignorando maron che non capivo le cose ma blockchain suonava così bene catena di blocchi ma che cazzo è una minchiatella beh allora attenzione questa blockchain viene raccontata come una tecnologia rivoluzionaria ora io in realtà ho delle remore anche a chiamarla tecnologia ma ve la passo buona io nella mia testa la chiamerei tecnica perché perché una tecnologia secondo me è un'altra cosa ma va bene chiamiamo la tecnologia ora la blockchain che ti riempie la bocca come un cannolo siciliano a una cassatella e ti fa sentire così potente salvo quando la traduci che diventa catena di blocchi e ti senti un coion ecco non è altro che attenzione adesso farò incazzare un sacco di gente un database e adesso ci saranno i puristi che diranno no non è mica solo un database è molto di più in realtà non è molto di più è un database con caratteristiche che effettivamente nessun altro database fino ad oggi ha mai avuto che cos'è un database qualcuno potrebbe non saperlo non è un consesso di specialisti allora ve lo dico io un database semplicemente è un luogo in cui si conservano dei dati che sono organizzati secondo determinati criteri che possono essere più semplici più complessi la forma più banale di database che vi potete immaginare è la lista della spesa uno già un po più complessa è la rubrica telefonica perché comunque divide i records quindi gli elementi di questo database in base alla prima lettera del nome avete la A con Antonio Alberto e Alberico la B con Bettina e gli altri amici bene è già un database un po più evoluto rispetto alla lista della spesa dove è tutto buttato dentro a cazzo di cane e non trovate mai niente nel database che elenco telefonico c'è già un criterio ma chiaramente la complessità può diventare infinita possono esserci database relazionali quindi che hanno tante tabelle chiamiamole così ma è anche corretto che sono messe in relazione l'una all'altra da chissà quali criteri adesso non ci importa comunque un database è un luogo in cui vengono salvati dei dati in maniera organizzata semplice o complessa tra loro diciamo legati da relazioni o meno a cui possiamo accedere quando quei dati ci servono bene un database solitamente viene posseduto da qualcuno quindi io posso averne uno sul mio computer voi un altro sul vostro computer ma possiamo tranquillamente anche avere un database messo in comune tra tante persone non è un'idea rivoluzionaria ad oggi possiamo mettere questo database su un server o su uno dei nostri computer basta sapere su quale sta e conoscerne l'indirizzo ogni volta che ci serve accedervi quindi accederemo a questo database leggeremo dei dati oppure ne scriveremo dentro degli altri e questi dati se il database è solo mio li vedrò solo io o la mia azienda o la mia famiglia o quello che è se invece decidiamo di metterlo in comune o addirittura di renderlo pubblico possiamo fare quello che ci pare e abbiamo questo posto con i dati la blockchain che cos'è? beh si chiama catena di blocchi per diciamo una cosa che sto pensando se spiegarvi o no ma forse non ve la spiego però ve la spiego facciamo così si chiama catena di blocchi perché la blockchain ha diversi blocchi come dice il nome in ognuno di questi blocchi sono contenute delle informazioni ok e ogni blocco è concatenato al successivo attraverso una funzione matematica che vi spiego e non vi spiego si chiama hash e cioè fa sì che un blocco venga compresso in una stringa di testo di lettere e numeri che è univoca cioè per ogni contenuto del blocco esiste una e una sola stringa che chiamiamo codice identificativo di quel blocco ok se io virtualmente modificassi qualsiasi virgola il carattere più stupido di quel blocco questa stringa cambierebbe completamente quindi qual è il fatto il fatto è che dalla stringa che io ottengo non posso conoscere il contenuto del blocco ma se conosco il contenuto del blocco e conosco la stringa posso sapere se questa stringa è valida cioè se veramente rappresenta questo blocco oppure no questa stringa viene poi inserita all'interno del blocco successivo e quindi diventa parte del contenuto del blocco successivo di conseguenza quando quest'altro blocco verrà compresso nel suo codice identificativo questo risultato sarà influenzato dal suo contenuto e quindi anche dalla stringa del blocco precedente questo fa sì che se voi volete fare i furbacchioni e modificare il contenuto di un blocco che sta in qualche punto della catena beh vi sgamerebbero subito perché modificando quel contenuto voi state invalidando tutte le stringhe identificative perché chiaramente modificando quel blocco ne modifichereste il contenuto e quindi il codice che lo identifica il quale viene riportato nel blocco successivo e quindi cambierebbe anche quello del blocco successivo e così a discendere a catena tutte le stringhe dovrebbero essere modificate quindi se vorreste veramente modificare un contenuto in un blocco precedente all'ultimo dovete modificare non solo quel blocco ma anche tutti i blocchi che ne sono discesi quindi i blocchi figli diciamo quelli successivi capite che la cosa diventa complicata però non è neanche così complicata se io questo database posso accedere beh lo faccio se posso modificarlo lo potrò modificare tutto modifico quel blocco faccio ricalcolare tutti i blocchi successivi bello che ho fatto no non funziona così o meglio funziona esattamente così c'è solo un piccolo problema che fare questi calcoli è estremamente oneroso in termini di risorse di calcolo cioè chiudere un blocco chiudere il secondo il terzo il quarto il quinto e tutti quelli a catena costa un botto in termini di potenza di calcolo però uno dice vabbè ho tempo e ho soldi e ho un computer veloce vaffanculo lo faccio non lo puoi fare comunque o meglio lo puoi fare solo in determinate condizioni perché perché in realtà ed è questa l'altra idea geniale della blockchain è che questo database non è mica solo su un computer no 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 non è sul tuo non è sul mio non è solo su un server e su tutti questi computer e sul mio sul tuo su quello dello zio pino della nonna maria su un altro server di là su un computer di là è distribuito a tutte le persone che hanno interesse in quel database e ovviamente non c'è nessuno che primeggia sugli altri cioè non c'è una gerarchia all'interno di questa rete di computer che ospita queste istanze di questa blockchain siamo tutti uguali ma se siamo tutti uguali chi è che decide cosa è giusto e cosa è sbagliato nessuno o meglio la maggioranza perché quello che succede è che quando io faccio una modifica sul database per esempio sul mio computer perché io devo aggiungere supponiamo che questo questa blockchain sia una un elenco telefonico io voglio aggiungere il numero di telefono di mia nonna perché lo ha cambiato lo aggiungo e a tutti i computer della mia famiglia per esempio se questa blockchain è una blockchain familiare viene spedita la mia blockchain e quindi viene replicata sugli altri computer ovviamente e cosa succede quindi se qualcuno vuole fare il furbo che se è da solo non può fare il furbo cioè non può andare a modificare i blocchi vecchi ok perché questo non è consentito dal sistema in cui funziona la blockchain puoi aggiungere certamente quello che vuoi ma non puoi modificare i blocchi vecchi e mandare a tutti quanti una copia diversa di quella blockchain ma se a fare i furbi sono per esempio otto miei parenti su dieci beh lo possono fare perché la maggioranza è una legge di natura ha sempre ragione e questo vale anche per la blockchain ora se voi fate questo passaggio mentale e vi immaginate che questa blockchain non è condivisa con i dieci membri della mia famiglia ma con dieci milioni di persone che tra loro non si conoscono e che se potessero si prenderebbero pure ammazzate in capa capite che è impossibile mettere d'accordo 5 milioni di persone più una per ottenere questa maggioranza ed è su questo principio che si basa la sicurezza della blockchain ok bene bello bellissimo stupendo che idea geniale cosa ci possiamo fare cosa ci possiamo fare con questo straordinario sistema di database condiviso tra le persone bello bellissimo fantastico la prima applicazione diciamo non è che se l'è inventata il bitcoin però la prima applicazione nota di questa blockchain che il concetto è splendido ha dei problemi è lenta non è efficiente è costosa perché i calcoli matematici che ci sono dietro queste cose sono estremamente complessi la prima applicazione reale è stato il bitcoin ma stasera non vogliamo parlare di bitcoin ok non vogliamo entrare in questo discorso rimaniamo un attimo sulla blockchain poi capirete perché capirete perché il bitcoin ha lanciato questa idea che dire blockchain proprio anche blockchain ancora meglio ti rende proprio un figo e quindi sei un tecnologo della madonna se tu dici blockchain cioè what's american boys bene questo ha fatto sì che chiaramente la cosa diventasse più o meno popolare tra i nerds e che tanta gente iniziasse a pensare il bitcoin l'hanno fatto su quello ma lasciam perdere non vogliamo parlare del bitcoin cosa possiamo farci ancora con questa roba perché è così stupendo e così straordinario che dobbiamo trovare delle applicazioni fantastiche perché perché i dieci anni di martellamento mediatico che sono preceduti diciamo alla percezione pubblica condivisa di blockchain come una cosa figa hanno ficcato nella testa delle persone che dobbiamo diventare tutti steve jobs e quindi ci piace tanto il garage in california cupertino idea con la barba lunga così capelli non ti lavi per giorni come faceva steve jobs e poi diventi miliardario quindi a me non la fanno mi hanno fottuto negli anni 80 anzi ma o magari neanche c'era negli anni 80 comunque mi hanno fottuto negli anni 80 90 e 2000 non sono diventato nessuno adesso ho questa idea c'è adesso adesso nessuno nessuno mi potrà dire che non ho visto qual era il futuro e il settore su cui spendere le mie energie per diventare miliardario negli anni 80 non ho visto che erano personal computer negli anni 90 non ho visto che era il web 1.0 negli anni 2000 non ho visto che era il web 2.0 adesso è la blockchain e la blockchain quindi deve essere il futuro principalmente per una sorta di ubriacatura collettiva che vorrebbe che serve per gratificare se stessi nel pensiero di poter essere veramente lo steve jobs del domani e quindi la blockchain è diventata una cosa che deve essere applicata a tutto bene adesso non ve lo faccio vedere però tra le cose veramente truci che ha visto che ha generato questo questo pensiero c'è per esempio una incredibile cosa e cioè le notizie ansa check e questo è fantastico allora se voi andate sull'ansa sull'agenzia nazionale stampa associata l'agenzia ansa l'agenzia di stampa aprite un articolo a caso troverete che in fondo c'è un loghetto che ho scritto ansa check notizia d'origine certificata perché ecco una delle prime cose che è venuto in mente a chi sognava di essere lo steve jobs degli anni 2020 è stato la blockchain la dobbiamo utilizzare per certificare la catena ok dall'origine al consumo di un prodotto quale prodotto qualsiasi dall'olio d'oliva alle arance siciliane alle cipolle di tropea alla alle verze della val padana tutto tutto salvato nella blockchain perché nessuno la può modificare e l'ansa si è inventata questa cosa notizia di origine certificata perché ti danno per l'appunto sulla base di una blockchain la registrazione della news che non può quindi essere alterata perché se la news viene modificata poi si vede dal database della blockchain ora tanto per dire se avete seguito il ragionamento che ho fatto fino ad oggi è una cazzata ma è abbastanza banale per tutti che sia una cazzata perché quante persone hanno in mano questo database distribuito a voi hanno detto vi do una copia del database dell'ansa a me no io non so dove stiano queste coppie e quindi insomma se è una notizia è un'ansa va da sé che può essere pure una minchiata per rimanere in tema del loro motto ma per farvi capire di cosa sto parlando immaginatevi per esempio la catena di certificazione della cipolla di tropea ora se ascoltate questi tecnologi che vivono nella loro stanzetta costantemente 24 ore su 24 vi dicono la seguente cosa ma è bellissimo è stupendo immagina tu adesso vai al supermercato e hai il cesto dell'orto frutta cioè bella i pomodorini i ciliegini le cose i funghi la verza e le cipolle di tropea io amo le cipolle di tropea c'è il prezzo con i tasti della bilancia e c'è scritto cipolle di tropea provenienza tropea vaffanculo si chiamano cipolle di tropea per un motivo e il tecnologo ti dice e tu ti fidi come fai a fidarti non puoi ti devi fidare perché sei un povero bifolco medievale del 2022 ma per fortuna abbiamo risolto questo problema con la blockchain in quel momento il nerd perde la maglietta degli scapelli si accorciano i capelli va via la forfora gli occhiali gli spariscono e si trova un saio addosso ok scalzo con i piedi così e diventa fratac in grassa anche un po diventa fratac perché ti deve evangelizzare abbiamo già risolto questo problema si chiama blockchain la panacea di questo male come funziona ma è ovvio ma non mi ha ascoltato fino adesso din don din don din don praticamente dall'origine il contadino traccia queste cipolle poi le dà al al durossista al distributore che a sua volta registra sulla blockchain il fatto che gli sono arrivate le tue 100 cipolle e poi registra che le ha date al trasportatore il quale a sua volta registra il carico e poi lo scarico affiniscono al secondo trasportatore che a sua volta prende in carico le cipolle e nella blockchain ci aggiunge anche diciamo la sua la sua parte quindi dice sono arrivate e le porto all'esse lunga del tuo paese che le scarica quindi il camion altro record sulla blockchain il signore diciamo responsabile di quel punto vendita esse lunga lo mette a sua volta nella sua cazzo di blockchain fino al ragazzo che le mette dentro al cestino e quello è l'ultimo passaggio della blockchain e ti mette un bel qr code accanto ai bilan i dati i numeri per la bilancia e tu puoi verificare tutto quelle cipolle sono davvero di tropea e conosci tutta la loro storia dall'inizio alla fine e io qua penso ma avete la merda nel cervello veramente veramente allora a a vediamo i problemi diciamo così come mi vengono alla spicciolata no problema numero uno problema numero uno che cazzo in mano questo database cioè è distribuito tra quante soggetti quante persone quante quante macchine non lo so dovreste dirmelo voi ma in ogni caso supponiamo che ce l'abbia o chiaramente ce l'avrà ogni anello di questa catena supponiamo che abbiano effettivamente interessi contrastanti quindi che sia difficile che si possano mettere d'accordo tra di loro ma questa è una supposizione arbitraria ma passiamogliela pure ma detto questo amico caro cioè una cipolla è una cipolla se una cipolla fosse una banconota sarebbe più semplice riconoscere la storia di una banconota perché la banconota è molto difficilmente falsificabile perché bisogna avere macchine estremamente complesse per falsificare bene una banconota quindi possiamo diciamo avere non la certezza ma la consapevolezza che molto difficilmente qualcuno potrà stampare veramente una banconota con la filigrana e con tutte le cose a posto e in più ha un numero di serie che è univoco quindi queste due cose insieme mi fanno pensare che effettivamente su una banconota diciamo che è molto facile che un sistema del genere ammesso che il database sia sufficientemente distribuito ammesso che e non concesso che tutti i nodi in cui è distribuito abbiano effettivamente interessi contrastanti e quindi si vigilino l'uno la con l'altro evitando quindi che si mettano tutti d'accordo per modificare un blocco del database per diciamo modificare la storia di una di queste banconote ammesso tutto questo potrei dire ma ci può stare ma la cipolla viva dio non ha un numero di serie la cipolla viva dio non ha un chip come i gatti dentro la cipolla non ha un'impronta digitale la cipolla non ha una certa diciamo disegno della retina che io posso riconoscere la cipolla è una cipolla al massimo la posso pesare posso guardarne il colore posso valutarne la qualità quindi se in uno qualsiasi dei punti di questa catena che va dal coltivatore fino al ragazzino che la mette dentro il cestello sul bancone io tolgo quel chilo di cipolla e ce ne metto un altro la blockchain andrà avanti esattamente come previsto e tu mi dirai perché questo ti dice il tecnologo che si è travestito da fratac ti dice ma quella è una truffa ho capito amico mio allora quella è una truffa allora guarda questa gente viene presa e assunta dai ministeri ok finisce dritto per dritto al ministero dell'economia e sono quelle che poi ti dicono che ti fanno la legge per dirti che non puoi spendere più di mille euro in contanti perché perché lo dice la legge e se io lo faccio comunque però scusa se devo pagare in nero me ne fotto nella legge è ma quella è una truffa cioè è proprio difficile avere diciamo come dire un certo tipo di contatto con questo tipo di atteggiamento ok quindi perfetto 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 la cipolla non si può tracciare siamo arrivati a questo diciamo definitivo definitiva consapevolezza bello il sistema bellissimo sarà applicabile in qualche caso certamente dubito che possa essere applicabile nel lanza check dubito che possa essere applicabile nella cipolla nel pomodoro nell'aranza di sicilia o quello che è a meno che non troviamo un modo esattamente per evitare che un frutto possa essere diciamo confuso con un altro che quindi ci sia un'ambiguità di questo tipo o non lo so o li blindiamo ma allora diventa un'altra cosa cioè se devo blindare tutto e chiuderlo all'origine con dei sigilli e portarlo alla fine sigillato non mi serve la blockchain ne posso fare a meno ce lo scrivo sopra col pennarello metto la firma e quando mi arriva ho belle che risolto il problema quindi capite che c'è una sostanziale inutilità da questo punto di vista di questa vicenda io che ho visto l'applicazione di questa blockchain in ogni cosa dalle notizie dell'ansa alle bottiglie di vino alle cipolle a queste cose qui ok non sono assolutamente disponibile a pensare che ci siano delle singole applicazioni specifiche di cose estremamente diciamo appunto specifiche in cui questo sistema può avere tutto il senso di questo mondo ok e sicuramente in quel caso sarà un ottimo sistema per realizzare la tracciabilità di un qualcosa però francamente difficilmente posso pensare che questa roba sia la rivoluzione commerciale per come mi viene spacciata quando in realtà non è ok e se qualcuno pensa a vabbè ma allora qualsiasi cosa basta che abbia un numero di serie sopra e posso utilizzare questo sistema ma no ma siete veramente ingenui perché so lo so io ho già parlato mille volte di queste cose con le persone non funziona così non funziona così tesorino allora questo ipad ha un numero di serie perfetto perfetto ha un numero di serie questo numero di serie non è su un database blockchain è su un database normalissimo all'interno dei server della apple che lo identificano loro sanno la storia di questo ipad non serve la blockchain sanno chi l'ha prodotto chi c'era qual era l'operaio che lo ha chiuso dove è stato venduto dove è stato trasportato se è tornato in assistenza quali servizi ho comprato insieme a questo ipad se gli ho messo un'estensione di garanzia e cosa cos'altro cos'altro sanno tutto di questo ipad e non serve la blockchain è loro interesse saperlo ed è mio interesse che loro conservino questa informazione ma è anche loro interesse perché altrimenti io potrei andare a dirgli questo ha una garanzia che in realtà non ha magari gli presento uno scontrino in cui ho comprato un altro ipad se non ci fosse la conservazione dei dati sul numero di serie non saprebbero distinguere l'uno dall'altro e invece questo già funziona detto ciò se c'è qualcuno che è in grado ok di replicare questo dispositivo e un ipad è difficile ma pensate per esempio a una cosa banale che ne so io un bicchiere ok questo bicchiere potrebbe avere un suo serial number perfetto che questo serial number sia o meno contenuto dentro una blockchain se qualcuno è in grado di realizzare un bicchiere falso uguale a questo ed è in grado di stamparci lo stesso serial number nessuno potrà distinguere il bene contraffatto da quello reale questo è un problema che esula dalla gestione del dato e quindi dalla catena o meno dal database della tecnologia o tecnica che dir si voglia che viene utilizzata questo lo vogliamo capire oppure non lo vogliamo capire no il tecnologico non lo capisce quello con il saio purtroppo non lo capisce e questo è il problema principale dopodiché in qualche caso specifico può anche essere ma questo diciamo quello che vi ho raccontato fino adesso ci è propedeutico per arrivare al web 3.0 al web 3 perché non è questo il web 3 questa è semplicemente la tecnologia di base e qui e qui si apre questa visione lisergica sul mondo e sul web era importante che voi capiste come funziona questa benedetta blockchain adesso però arriviamo alla ciccia quella vera il web 3 il web 3 bene che cos'è il web 3 se tu lo chiedi all'entusiasta di turno ti dice che è come il web 2 ma basato sulla blockchain e questo non poteva che essere insomma la naturale evoluzione di questo straordinario sistema bene 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 il web 3 è il web 2 basato sulla blockchain perché perché giustamente questo io sono perfettamente d'accordo queste persone diciamo dicono beh non vedi tu fai un post che non piace a mister instagram lo carichi su instagram e instagram te lo cancella c'è un'autorità centrale e qual è il punto il punto è che il web 2.0 è centralizzato facebook decide la sua politica editoriale ormai lo possiamo dire in chiaro tanto la legge non conta un cazzo facebook decide la sua politica editoriale e quindi stabilisce cosa sulla sua piattaforma può essere ospitato e cosa se ne deve andare ed è una sua decisione twitter fa la stessa cosa decide per esempio che trump non deve poter twittare e trump non twitterà la stessa cosa la può fare con te oppure con un tuo amico bene il web 2.0 si porta con sé queste questi colossi ok queste grandi aziende le big tech le chiamiamo no google cioè alphabet facebook cioè meta apple incorporated che però in realtà non c'entra twitter non c'entra in questo discorso chiaramente c'entra in altri ma in questo un po' meno e tutte queste queste grandi aziende insomma che a livello di informazione pubblica e di discussione pubblica sono ormai centrali sono centrali per le comunità di persone ma sono centrali anche a livello di gestione il livello di gestione è centralizzato dal centro dalla california stabiliscono le regole per tutti e se non ti adegui sei fuori ti piace ti piace ti piace no non mi piace non piace neanche a me ho un'idea di come questa cosa dovrebbe essere risolta non è questa la sede per parlarne ma penso che si possa tranquillamente se ci fosse la volontà politica che non c'è anzi c'è l'opposto della volontà politica che vorrei io si potrebbe risolvere bene però 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 dobbiamo risolverla tecnologicamente visto che abbiamo questa blockchain questa catena di blocchi ok e quindi se noi immaginate lo proprio fate fate così intuitivamente questo sforzo se noi basiamo il prossimo twitter anziché su un database che sta nel server del signor twitter di jack dorsi a casa sua ok e che quindi può decidere di alterarlo questo database cancellando dei tweet che non gli piacciono per esempio o magari che a lui piacciono ma che non piacciono al politico che gli dice se non li cancelli ti faccio un mazzo così l'anno prossimo paghi il 98 per cento di tasse e quindi lui è costretto sotto diciamo ricatto a cancellare quel tweet anche se gli piace se noi togliamo il database da casa sua dal suo ufficio e lo portiamo in questa galassia sterminata di database distribuiti chiamata black chain quel che quel dato quel tweet non potrà essere cancellato da nessuno nessuno avrà l'autorità per farlo perché il tuo tweet che non piace al proprietario di twitter o al politico potente di turno finisce dentro un blocco che viene chiuso sigillato e quel blocco attraverso quella funzione di hash finisce nel blocco successivo in quello dopo ancora in quello dopo ancora in quello dopo ancora e dopo un tot numero di blocchi variabile a secondo dell'algoritmo che gestisce questa blockchain tu puoi dirti certo che quella roba lì non possa più realisticamente essere cancellata perché cancellarla significherebbe modificare il contenuto di quel blocco e quindi poi questo porterebbe a dover modificare quello successivo quello dopo quello dopo ancora su non solo su un computer ma su tutti i computer che ospitano quella blockchain l'idea è geniale lo riconosco è una grande idea mi piace è bella fantastica ma non lo so non lo so perché in realtà non può funzionare una cosa così non può funzionare vi do dei motivi tecnici e dei motivi diciamo politici ok diciamo così allora i motivi tecnici i motivi tecnici sono che certo tu lo puoi realizzare ma poi questo database per vederlo cioè l'interfaccia di questo ipotetico twitter che viaggia su database su blockchain l'applicazione che scarico per esempio sul mio ios o su android o il sito web che visito non sono la blockchain sono un software che legge quella blockchain e che mostra quello che quella blockchain contiene ok lo avete già capito probabilmente se siete un po svegli io posso anche rendere il database immodificabile ma se poi se poi questo signore che gestisce l'interfaccia e immagino che in un modo del genere io potrò avere anche una concorrenza posso scegliere diverse interfacce quella che mi piace di più quella che mi dà servizi migliori per accedere a questo diciamo social media distribuito se quell'interfaccia decide che un determinato contenuto deve essere censurato lo censurerà lei viva dio non lo censura direttamente il database nel database c'è ma quando l'interfaccia lo riceve lo riconosce anziché farlo uscire come fa con tutti gli altri non lo fa uscire semplice il problema è risolto è così difficile ma ne crescerne usciranno altre certo usciranno interfacce pirata interfacce corsare che se ne fotteranno della censura e mostreranno tutto può essere ma questo voglio dire anche oggi se io voglio uscire dal circuito mainstream dei social media quindi da twitter facebook youtube e twitch posso andare sul pantoprazzolo club per esempio posso andare su 4chan 8chan quello che è posso aprirmi un sito posso fare quello che voglio ma è una cosa di nicchia il problema oggi non è che la tecnologia del web mi impedisce di avere come unico giudice la magistratura che è quello che io ritengo corretto il problema è che nelle piattaforme dove siamo tutti questo non è possibile e il tuo giudice naturale non è il magistrato di turno ma è il moderatore del cazzo di facebook questo è il problema giusto quindi pari pari te lo porti dietro anche perché voglio dirvi molto banalmente e semplicemente che se qualche interfaccia pensasse di diventare mainstream rimanendo su ios o android o anche solo mantenendo un servizio di dns attivi quindi avendo un sito web raggiungibile questo è semplicemente impossibile io lo ho pubblicato un social network su ios io ho caricato attraverso il mio app store connect un'applicazione classificata come social media all'interno dell'app store di apple e anche di quello di google ok tra parentesi chiaramente mi riferisco proprio all'applicazione del pantoprazolo club ok www.pantoprazolo.club so quali sono le regole le regole sono che tu non è che vai e ti pubblichi un'applicazione su ios con un social network con le regole che vuoi tu se nel tuo social media passano cose sgradite al regolamento della piattaforma intesa come apple ios te lo tolgono e la tua applicazione te la sogni l'hai pagata l'hai sviluppata tanti saluti stessa cosa su google quindi se vuoi finire su questi sistemi operativi devi passare da lì certo non è la stessa cosa sui computer ok è diverso ma ripeto ripeto uno che non sta alle regole si trova se vogliamo in pochi giorni i dns tranciati che significa il servizio di elenco telefonico del web che fa sì che quando scrivete www.facebook.com si apra il sito quindi voglio dire la censura è più forte della vostra intelligenza in questo caso a meno che non pensiate di dover fare le cose di nicchia tra carbonari ma allora se questo è il problema da risolvere non c'è per l'appunto bisogno di un social media basato sulla blockchain anche se io considero effettivamente essere diciamo un buon obiettivo quello della mancanza della censura nonostante nonostante ops cosa ho fatto nonostante se ci guardiamo in faccia e ci diciamo la realtà ok e le cose come stanno a meno che non siamo quegli anarchici che bruciavano la legna nei barili di ferro negli anni 90 con la bandiera con la dell'anarchia dobbiamo dirci anche che è necessario se crediamo nello stato diciamo come organizzazione della società che l'autorità possa intervenire quando necessario cioè è assolutamente fondamentale che se io pubblico un qualcosa che corrisponde a un reato per quanto mi riguarda se quel reato è manifesto si può intervenire immediatamente e poi un giudice dovrà convalidare o entro magari dei tempi che siano accettabili una serie diciamo di questi comportamenti se invece non è manifestamente diciamo un reato quello che sto compiendo qualcuno mi denuncerà e alla fine se il giudice lo riterrà opportuno chiederà la rimozione di quel contenuto e deve poterlo fare la magistratura deve poter ordinare che un contenuto venga rimosso altrimenti non è stato di diritto non è mancanza di censura non è giustizia è anarchia anche se posso dirvelo violenta ok io contesto il modo in cui queste cose vengano gestite contesto sapete benissimo la magistratura ma non il sistema che ci sta sotto per come dovrebbe funzionare ma per come evidentemente non funziona ma siccome non funziona non penso che sia da cambiare il sistema alla base penso che sia da cambiare l'espressione di quella di quel pensiero e di quell'organizzazione ok sono cose molto diverse l'altra cosa terrificante è che addirittura si potrebbe arrivare a un qualcosa che è peggio della caccia alle streghe cioè che un contenuto potrebbe potrà essere in un sistema di questo tipo effettivamente censurato e quindi cancellato a monte dalla black chain se la maggior parte dei nodi sono d'accordo nel farlo è perché tutto si basa sulla maggioranza attenzione la maggioranza della potenza di calcolo stabilisce che il tuo tweet non è buono quel tweet viene cancellato ok immaginatevi uno scenario in cui per proteggere la libertà di parola ci si affida al voto della maggioranza vi siete guardati intorno recentemente avete visto quale genere di personaggi avete attorno a voi ve ne siete per caso accorti ecco non so perché se ve ne siete accorti sapete che questa è una stronzetta ok è meglio che ci sia zuckerberg che stabilisce cosa è bene cosa è male si dia il caso che magari quell'uomo si sveglia buono un giorno ok e in buona perché i vostri vicini di casa se possono incularvi lo fanno e quindi guardate sarebbe un mondo peggio di quello che conosciamo fino ad oggi ovviamente ovviamente ci sono anche delle cose positive però chiaramente e cioè tu potresti in questo sistema utilizzare un account unico per loggarti a tutti i diversi social più o meno diciamo e non solo ai social anche ad altre cose che vedremo ecco questo è un vantaggio sì perché tu ti loghi con il wallet tu non sei andrea lombardi che con la sua email c'è di peggio chioccio l'andrea lombardi.it crea l'account su facebook crea l'account su twitter crea l'account su youtube no tu sei un wallet che cos'è un wallet è di fatto è un account all'interno di questo sistema inteso come la blockchain proprio cioè adesso si usano i wallet se io devo depositarci sopra per esempio delle criptovalute quindi ho una posizione su bitcoin ho un wallet su ethereum ho un wallet ok perfetto questo wallet diventa il centro del tuo mondo è il tuo l'account che vale per tutto con questo wallet ti loghi ai diversi servizi ti loghi al twitter su blockchain ipotetico al facebook 3.0 chiamiamolo così al paypal 3.0 che potrebbe essere che ne so coinbase o qualcosa di simile comunque qualcosa che faccia mercanteggiare criptovalute ti loghi a tutte queste cose e se tu sei bravo questo account rimane anonimo il problema è che se non sei bravo se paghi una volta il pane con il bitcoin ammesso e non concesso che questa cosa sia possibile in futuro ma se paghi con quel wallet il pane dal tuo panettiere che ti guarda in faccia e ti riconosce e dice oh quello quel coglione lombardi poi lui conoscendo diciamo il codice diciamo così l'identificativo del wallet con cui hai pagato il pane chiaramente sulla blockchain ha tutto di quel wallet sa che allora sei tu quello che ha scritto quel post sa che allora sei tu quello che ha mandato quel messaggio sa che allora sei tu che ha fatto tutte le transizioni che sono pubbliche cioè ogni volta che paghi qualcun altro è pubblico quindi potrà sapere che tu per esempio sei andato a comprare il pane da un suo concorrente anche se gli avevi giurato che non lo avresti mai fatto ok quindi bellissimo perché è anonimo diciamo ma è tracciabile ecco è anonimo ma è tracciabile un sistema di questo tipo quindi è a doppio è una lama a doppio taglio cioè quello che viene spacciato per anonimato totale ok anonimato totale in realtà non lo è chiaramente possono esserci diverse blockchain possono esserci quindi wallet separati per ogni blockchain ma se io la penso come me la vendono e cioè me la vendono ovviamente come il vantaggio di portarmi dietro tutto il mio carico di informazioni ovunque selezionando a quale soggetto mostrare che cosa ecco questo chiaramente funziona esattamente come ve l'ho descritto e allora diventa una cosa che attenzione va maneggiato con grande cautela perché può diventare facilmente molto complicata e veramente molto difficile da gestire e quindi insomma a mio parere questi benedetti social network distribuiti sono una sonora cazzata sono una grande minchiata perché tecnicamente sono una cosa complicata sono una cosa inefficiente sono una cosa non particolarmente sicura neanche particolarmente in realtà vantaggiosa poiché per l'appunto i livelli che oggi vengono contestati al web 2.0 si spostano semplicemente in là di un passo ma tutte le complicazioni rimangono rimane il rischio della censura rimane il rischio addirittura che non si possa cancellare qualcosa di assolutamente irricevibile pensate arriva uno posta un video pedo pornografico e voi non lo potete cancellare certo l'interfaccia lo cancellerà ma dentro al database rimane e quindi l'interfaccia pirata continuerà a pubblicarlo e a quel punto il giudice cosa farà se riuscirà a far tirare giù l'interfaccia ma il contenuto rimane lì non verrà cancellato sarà impossibile da cancellare ancora più impossibile da cancellare rispetto a quanto già di fatto non sia impossibile cancellare un contenuto che comunque transita per il web ma qualcuno si è fatto venire in mente delle idee ancora migliori perché guardate stiamo scalfendo la superficie adesso entriamo nella tana del bianconiglio adesso entriamo insieme ad Alice ci facciamo un bel funghetto e scopriamo le magie del web 3.0 perché c'è una cosa fantastica che insomma è qui che è dall'inizio di questa puntata che di cui vi voglio parlare e che si chiama nft non fungible token cos'è un non fungible token è un token quindi è un gettone non fungibile che cos'è un bene fungibile un bene fungibile è un bene che è interscambiabile né più né meno quindi prendete una monetina da un euro è interscambiabile la mia il mio esemplare di monetina da un euro è come la tua è come quell'altra ok le monetine da un euro in realtà hanno la data in cui sono state stampate va bene se togliamo queste cose se ci immaginiamo tutte le monetine da un euro della stessa annata tutte uguali senza che nessuno abbia un errore di stampa per cui vale di più o di meno eccetera tutte uguali sono tutte interscambiabili se sono tutte interscambiabili io posso chiedere un euro a te tu me ne dai uno lo possiamo non come è fungibile si chiama bene fungibile perfetto questo bene fungibile ok è per esempio per definizione qualsiasi file digitale voi scrivete la letterina babbo natale la salvate scrive la chiamate letterina punto doc possiamo fare copia in colla posso copiarla quante volte voglio e tutti queste copie tutti questi file che si chiamano letterina punto doc che sta sul desktop del letterina punto doc che sta nei documenti letterina punto doc che sta in google drive sono tutte uguali ok sono fungibili tra loro la stessa cosa vale per esempio per una fotografia jpeg una fotografia ti piace questa foto guarda ho fatto una foto in montagna sul monte rosa ti piace te la mando te la copio faccio copia in colla la metto sulla tua chiavetta e posso averne quante copie voglio non costa fare le copie di questo file se non lo spazio che è necessario per salvarlo e registrarlo bellissimo voglio dire l'uomo di neante doveva per farsi la clava farsi un culo così un culo così se avesse voluto avere tre clave dalla prima clava originale sai quante madonna allora avrebbe 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 acceso un cero a non so alla alla luna al lupo quello che volete insomma alla sua divinità perfetto posso bellissimo ci metto la firma fantastico ci abbiamo messo millenni per arrivare a questa roba qui adesso c'è qualcuno che decide che gli fa cagare che non gli piace no troppo facile troppo facile troppo facile il copia in colla dobbiamo trovare un sistema per fare sì che un file non sia più un oggetto fungibile e che quindi sia un non fungible object ok cioè un bene che non è interscambiabile la mia immagine in jpeg non è uguale alla tua il mio png il mio logo non è uguale al tuo sembrano ma non lo sono sono esemplari diversi bene ci sono riusciti no non ci sono riusciti perché è impossibile cioè dal momento che una rappresentazione digitale di qualsiasi cosa è una sequenza di bit ok questa sequenza di bit può essere replicata per definizione ok perché qualsiasi combinazione non può essere che replicata basta conoscerla e la replichi e infatti non ci sono riusciti a ottenere un non fungible object di tipo digitale ma hanno creato un carrozzone gigantesco che ha anche degli aspetti geniali e delle applicazioni interessanti ma per riuscire a rendere non fungibile una cosa che lo è per definizione per tentare di snaturare qualcosa ok bene cosa hanno fatto hanno preso ovviamente l'immancabile blockchain e hanno detto tu puoi registrare qui una scrittura una stringa che dice che chi ha in mano diciamo il codice che questa bella semplifico chi ha in mano il codice che questa stringa diciamo rappresenta allora è proprietario di questa stringa in realtà e se in questa stringa c'è scritto per esempio il link ad una immagine ad una fotografia allora noi fuori da questa blockchain per le nostre regole sociali stabiliamo che tu sei il proprietario di quella roba e hai il codice lo puoi dimostrare quindi questo codice corrisponde effettivamente a quella stringa chi ha questo codice è il proprietario per definizione di quella roba lì il codice ce l'hai nel tuo wallet ok quindi il tuo wallet riceve questo codice se lo salva se lo salva lo puoi anche dire a qualcuno il codice non è che te lo può rubare devi avercelo nel suo wallet per poter dire è mio puoi cederlo puoi cambiare questo codice spostarlo dal tuo wallet a un altro wallet a quello di un tuo amico puoi farti pagare per questa operazione puoi farlo gratis puoi fare quello che vuoi ora è nato tutto diciamo da questo tutto un movimento di artisti pseudo artisti pseudo pazzi e pazzi veri che ci ha creato sopra una cosa incredibile se voi cercate nft di fatto oggi nonostante sia quello che vi ho spiegato ce ne sono di diversa natura diverso tipo eccetera però funziona così generalmente in tutte le blockchain quello che succede è che questi artisti realizzano delle immagini delle anche anche delle belle immagini artistiche le utilizzano per creare questi token nft cioè registrano il link a questa immagine il link web a questa immagine sulla blockchain e poi dicono adesso ce l'ho io nel mio wallet chi lo vuole paga oppure lo metto all'asta e cosa ottieni in cambio comprandolo pagandolo ottieni che questo questa stringa viene passata nel tuo wallet e tu dici ma l'immagine però ce l'hanno basta fare copia e incolla ce l'ho anche io sì ma solo io nel mio wallet ho la certificazione che quel link quella scrittura appartiene a me ok e la gente paga per questo paga euro decine di euro centinaia di euro paga milioni di euro sono ci sono nft che sono stati battuti a 6 7 10 milioni di dollari ok c'è chi è movimentato centinaia di milioni di dollari per queste cose ok bene è una bifolcata è chiaramente una minchiata ma nel nel tra gli nft ci sono delle applicazioni intelligenti adesso ve lo dico però riflettiamo su questo si sta sviluppando questa incredibile diciamo cultura dell'nft che vede la possibilità di comprare per prezzi folli o meno folli questi token che contengono un link ad un'immagine che è pubblica e che è fungibile per definizione perché così funziona al digitale mi dispiace e questo mercato diciamo prevede che tu compri una cosa e forse la potrei vendere a un prezzo incredibilmente più alto tra un po di tempo e la gente si sta scannando mentre noi parliamo c'è gente che si scanna per avere queste cose ora immaginatevi l'intelligenza di una persona che vede la vostra bmw serie 5 nuova di zecca che potrebbe averla facendo un click un doppio click e copiandola e incollandosela nel suo garage immaginatevi l'intelligenza di uno che dice no ma io la voglio pagare perché perché la voglio nel mio wallet ma guarda è uguale funziona si accende a 470 cavalli tutta uguale uguale anche la mia targa vaffanculo se prendi le multe arrivano a me no io la voglio pagare ecco allora io non trovo degno della mia stima una società diciamo o una congrega di persone che trovi intelligente un sistema del genere cioè che crea scarsità che poi non crea scarsità attenzione laddove non c'è vorrebbe creare scarsità laddove non c'è per definizione ottiene invece soltanto che realizza un prodotto per o un volpone che sa speculare da cui mi tolgo il cappello è moralmente diciamo questo va benissimo a tutta la mia stima se sapete fare soldi con gli nft vorrei imparare da voi fate bene e in quel caso in quel caso è probabilmente una persona molto intelligente che ha tutta la mia stima eccetera ma tolti questi che sanno cosa stanno facendo e come stanno speculando il resto io non posso che per guardarli come degli imbecilli che pensano di comprarsi un qualcosa avendo una proprietà o forse sperando senza sapere cosa stanno facendo di vedere questa roba crescere di valore nel tempo e magari accadrà ok ma di fatto sarà basato su una cosa che io non condivido e che mi sembra una stronzata e questo è un punto detto ciò detto ciò attenzione perché all'interno di questo sistema già c'è una prima cosa che vi posso dire secondo me è intelligente e secondo me può avere anche delle applicazioni molto utili forse anche diciamo che avranno un certo impatto non mi spingerei a dire rivoluzionarie rivoluzionario è un'altra cosa rivoluzionario è stato internet nella sua essenza non il web 1 2 non il web l'SMTP no internet nella sua la rete di computer internet quello è stato rivoluzionario ancora prima del web il resto sì attenzione rivoluzionario no però 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 c'è un'applicazione utile di questa cosa immaginatevi immaginatevi di vendere non una stupida immaginetta cretina che si può copiare incollare come si vuole ma ma un abbonamento a un servizio per esempio il pantoprazzolo club un accesso a qualche tipo di di bene ok l'esempio classico che fanno tutti è l'abbonamento alla palestra ok ora questo abbonamento alla palestra io lo posso se sono la palestra vendere sotto forma di nft quindi dico chi possiede queste non so ne faccio 10 uno di questi 10 abbonamenti all'abbonamento silver chi possiede questi 10 all'abbonamento gold chi possiede questi 3 a quello platinum perfetto e a questo punto tu ti presenti con il tuo wallet mi fai vedere il tuo codice ed effettivamente è valido hai accesso al ai servizi e ai servigi dell'abbonamento silver gold o platinum o quello che è e voi dite serve la blockchain per fare questa roba chiaramente no chiaramente no però 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 se questa palestra non è una palestra di quartiere ma è magari una catena di palestre è una azienda molto nota che magari ha anche altri tipi di attività potrebbe essere che ci siano così tante persone interessate ai loro servizi che si generi un mercato secondario perché la cosa figa è che io il mio codice non è associato alla mia persona è associato al wallet ok quindi lo posso trasferire a qualcun altro e posso farmi pagare magari l'abbonamento l'ho pagato 100 euro al mese ma ma nel frattempo la palestra è diventata super figa tutti il quartiere magari invece è diventato super figo quindi ci abita più gente tanta gente ci vorrebbe entrare ma le palestre non è che danno abbonamenti infiniti sono finiti ok allora lo posso vendere anche ad un prezzo maggiore e voi dite serve la blockchain per questo no potrei nella maniera più medievale diciamo se fossi la palestra a gestire io le transazioni del mercato secondario quindi viene il venditore viene l'acquirente e io trascrivo nel mio libro mastro la proprietà dall'uno all'altro o potrei anche togliermi di mezzo potrei realizzarmi un mio sistema non serve che sia fatto su blockchain e con questo mio sistema permettere a chiunque di trasferire il suo abbonamento a qualcun altro e il libro mastro quindi è accessibile a tutti lo posso basare anche sull'email una cosa del genere non serve la blockchain l'unica cosa interessante secondo me è che potrebbe svilupparsi da qualche parte un chiamiamolo diciamo marketplace globale che potrebbe essere un ebay 3.0 in cui si mercanteggiano tutte queste cose qui quindi ho l'abbonamento della palestra di milano quartiere che ne so isola insieme a l'abbonamento al pantoprazzolo club l'accesso a un giro di pista con la ferrari enzo a imola che da riscattare quando vuoi e tutte queste cose qui in un grande marketplace che quindi diciamo è conosciuto da tutti e io non so cambio casa vado da qualche parte voglio vedere cosa c'è sul mercato di esperienziale che mi voglio comprare sotto forma di abbonamento o diciamo di di qualsiasi cosa di questo di questo genere vado su quel marketplace trovo tutto senza neanche dovermi chiedere quella palestra se si è organizzata autonomamente o no io ci vedo questo diciamo come tipo di applicazione ed è effettivamente in realtà una cosa da non sottovalutare anche perché potrebbero esserci mille altre idee basate su questa cosa diverse da quella che ho detto io e o altre applicazioni specifiche di nuovo altre applicazioni specifiche però non c'è granché altro da dire se ci pensate ecco ci aggiungo uno step perché nel web 3.0 ci sono anche gli smart contract ok e cioè a dispetto del nome non sono esattamente dei contratti intelligenti sono dei software ok perché c'è anche diciamo tutta una visione della del mondo della finanza e delle banche soprattutto in questo web 3.0 e chiaramente al grido di aboliamo le banche si riesce ad arrivare anche qui a definire un nuovo modo di per esempio chiedere dei prestiti chiedere dei prestiti come fai tu a chiedere un prestito oggi senza la blockchain tu medievale qua mi trasformano nel fratac di turno vai in banca dimostri di avere delle garanzie dei collaterali da mettere a disposizione della banca quindi non so la casa di proprietà perfetto la casa ci mettiamo un'ipoteca sopra la tua casa vale 100.000 euro la banca te ne presta 75.000 70.000 quello che è bene se non restituisci soldi la banca si prende la casa e la colloca sul mercato e la aliena la liquida ok con quei liquidi si ripaga la sua il debito che tu hai contratto e non hai onorato e poi il resto te lo prenderei tu bene perfetto come facciamo a digitalizzare tutto ciò ma con la blockchain evidentemente ovviamente questa è un'altra idea che è borderline perché se la basiamo su bitcoin eccetera bisogna stabilire che quelle cose siano effettivamente funzionali come monete ma è un altro mondo e non ci voglio entrare se la basiamo su qualcosa di a metà possiamo pensarci l'idea è che io posso dare a questa banca virtuale che si chiama smart contract per l'appunto è un algoritmo che gira sulla blockchain il quale che cosa fa prende il tuo nft condisegnata sopra una trota in 8 bit che vale 10 milioni ok in quel momento sa che vale 10 milioni perché fa un'analisi sul mercato vede che quella nft è collocato a quella cifra quindi ti dice tu mi dai un collaterale di 8 milioni quindi a garanzia mi dai questo nft di 8 milioni io ti presto 6 milioni ok di 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 che ne so di di dodge coin facciamo che non siamo né in euro né in dollaro né in bitcoin sono i dodge coin ti do 6 milioni di dodge coin ecco te li te li trovi subito sul wallet e il tuo nft è sequestrato in garanzia del prestito in automatico lo smart contract ti inizia a erodere il capitale che che diciamo posseduto sul wallet secondo il piano di rientro del debito che tu hai sottoscritto al momento in cui hai scelto quello smart contract quindi mettiamo hai un certo numero di rate mensili ogni mese ti preleva dei soldi in automatico tu non puoi fare niente svuoti il conto non hai soldi non paghi le rate dopo un tot di rate non pagate previsto inizialmente lui algoritmicamente e nessuno lo può fermare perché si trova all'interno della blockchain quindi sarebbe come modificare un blocco della blockchain cioè virtualmente impossibile perché è distribuita perché dovresti modificare tutti i blocchi successivi quindi è un terminator che non puoi fermare neanche col bazooka lui prende il tuo nft ti dice vaffanculo non mi hai pagato le rate lo colloca sul mercato lo vende lo liquida e si piglia i soldi ti darà quello che ti spetta e si ripagherà il suo debito che ti ripagherà il tuo debito con tutti gli interessi eccetera si tiene tutto in pancia ed eventualmente quello che avanza i quattro spicci te li ridà ok anche questo dovrebbe essere un modo incredibile per gestire la finanza nel web 3.0 chiaramente cosa succede se quell'nft che valeva 8 milioni dopo un po di mesi non se lo incula più di pezza nessuno e scende a 80 euro questo insomma è da stabilire algoritmicamente mentre scende può dirti guarda che sta scendendo o ci metti altro a collaterale oppure lo liquido e mi piglio i soldi può succedere qualsiasi cosa fondamentalmente va stabilito però il problema di tutta questa roba qui ancora una sacra volta è che per funzionare finché è basata sull'nft è intuitiva bene ma per far sì però è anche diciamo voglio dire eredita il fatto che per come le abbiamo trattati fino adesso questi nft sono in gran parte minchiate colossali se la vogliamo fare come cosa seria anche qui potrebbe esserci qualche applicazione intelligente anche per come è stata scritta ti do impegno diciamo in garanzia come collaterale la mia casa non l'nft ma la casa che ha un valore più stabile che insomma ha un collocamento differente sul mercato e tu mi presti i soldi magari sotto forma di euro digitali anziché di bitcoin vedi tu però insomma il problema è che per fare questo tu devi trasportare nella blockchain non soltanto gli nft ma tutti i certificati di proprietà delle case per esempio così lo posso mercanteggiare come voglio tutte le targhe delle automobili eccetera eccetera possibile possibile ma anche lì tutti questi che vedono alla blockchain come il grande la grande tecnologia salvifica e rivoluzionaria che non farà sì che non servirà più il notaio farà sì che non servirà più il pra quindi il pubblico registro per le automobili farà sì che non servirà più nulla di tutto ciò dovrebbero rendersi conto di un'altra cosa e cioè che noi senza avere un database distribuito visto che già ci fidiamo del database del pra e del database diciamo della dei nostri comuni e del nostro stato quell'obiettivo se ci fosse la volontà politica per raggiungerlo già lo potremmo raggiungere senza bisogno di usare la blockchain non c'è bisogno della blockchain visto che già ti fidi ok del pra dei registri pubblici in generale non c'è bisogno di avere una blockchain per poter pensare di fare a meno del notaio per poter pensare di fare a meno dell'aci per trasferire la targa da una proprietà all'altra perché è evidente che l'identificazione che è il ruolo che loro svolgono può tranquillamente essere oggi svolto da una tecnologia digitale e quindi anche lì voglio dire per arrivare a quello bisogna pensare prima di trasformare tutto questo e di inserirlo all'interno della blockchain e di questi sistemi con vantaggi che andrebbero discussi perché non sono assolutamente tutte i rosei come vengono raccontati come ho cercato di farvi capire questa sera ora a diciamo conclusione cosa voglio dire con questo voglio dire che è bellissimo fantastico stupendo tutto l'entusiasmo con cui viene raccontata questa cosa splendido salvo quando proviene da persone che hanno comprato qualcuno di questi asset e che quindi hanno grande interesse che tutti gli altri lo comprino altrimenti il loro non vale più niente in quel caso è fastidioso bellissimo il pensiero che si possa raggiungere diciamo un uno stato di non censura un l'idea che si possa diciamo passare ad un livello in cui non è la singola diciamo volontà politica o volontà aziendale che stabilisce cosa è bene cosa è male ma non è secondo me questo il modo non è questo il modo ci sono come avete visto tutta una serie di incognite tecniche ok che sono tutt'altro che banali sono tutt'altro che banali ma sono anzi fondamentali altrimenti si rischia di fare lanza check con la blockchain oppure quella della patata della sila o della cipolla di tropea che non hanno alcun senso evidentemente per mille ragioni ok in cui guardate possono tranquillamente essere assolte quelle quelle necessità dalla banale email l'email il contadino manda l'email con scritto ti ho mandato tot cipolle di tot qualità tot giorno voglio dire tutte cose che ci sono già ok già questi soggetti possono dire io ho fatto questo io ho fatto quell'altro chiaro che se si mettono d'accordo in più di uno per truffare il successivo è una cosa diversa ma come vi ho fatto vedere prima tutto questo è già completamente aggirabile non è questa la soluzione ci possono essere delle ottime applicazioni secondo me negli smart contract senza dubbio negli nft anche e quindi nell'utilizzo della blockchain in questo modo va da sé che questa 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 descrizione di questa realtà fa capire che non siamo siamo non siamo di fronte alla rivoluzione diciamo incredibile che viene prospettata siamo di fronte ad una possibile innovazione complicata da far convivere con il resto che abbiamo intorno complessa da gestire ma pur sempre possibile tutto quando nasce a dei problemi ci vorranno magari degli anni o magari no magari domani mattina qualcuno avrà l'idea geniale per integrare le parti migliori di tutto quello che vi ho descritto nelle cose che usiamo tutti i giorni ottimo possibilissimo possibilissimo eviterei però eviterei di andare in giro cercando di evangelizzare il prossimo raccontandogli di un mondo che non c'è e che non esiste e che soprattutto non può esistere nella forma in cui viene spacciato guardatevi molto bene da chi tenta di evangelizzarvi ma in realtà il suo vero obiettivo è vendervi qualcosa magari un nft magari diciamo un token di qualche altro tipo legittimo tentare di venderlo legittimo tentare di farlo e anche comprarlo ci mancherebbe pure magari ci fate anche dei soldi se sapete come fare avete la mia massima stima ma ecco se vogliamo parlare secondo me di questo possibile futuro in modo serio dobbiamo affrontarlo in modo serio grazie per avermi ascoltato adesso questa puntata finisce qua ma io per chi è qui in diretta su twitch mi fermerò leggerò le domande cercherò di capire di cosa si è discusso immagino che ci siano tanti commenti e cercheremo di riprenderceli insieme per tutti gli altri quelli che mi ascoltano indifferita ma in realtà anche quelli che sono qui su twitch ecco sappiate che qua sotto come vi ho detto all'inizio ci sono i pulsanti per abbonarsi se vi è piaciuto il contenuto se vi piacciono in generale queste puntate ecco per sostenermi l'abbonamento è fondamentale e quindi quello è il modo per partecipare non vivendo nft vivendo abbonamenti tradizionali 2.0 grazie e se volete rimaniamo qua per le domande eccoci qua allora vediamo un attimo cerchiamo un po di recuperare immagino che ci sarà una quantità di commenti impressionanti sempre un argomento che fa incazzare questo un sacco di gente ok allora vediamo un po i commenti chiaramente sono dell'inizio adesso vediamo un po vediamo un po menti deboli il vero web 3.0 è il deep web bah 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 non lo saprei dire questo eh non lo so blockchain ASMR catena di blocchi non va bene no non fa abbastanza what's american boys ok sembrano le canzoni di judas price possiamo fare anche così se vi va che ne dite ok ok quando fa il cazzone andrea dal meglio di se mi fa piacere un database che deve essere sincronizzato con altri milioni di database sì questo però si fa non è un problema cioè funziona già così il bitcoin per esempio quindi non è quello grosso il problema c'è da dire che la matematica che si è detto tutto è affascinante poi dell'utilizzo che se ne fa della blockchain ci si può discutere oh ma sì sì no è assolutamente interessante ed è anche brillante diciamo l'idea a cui sono giunti ecco la blockchain comunista ma un po sì quindi la blockchain è un sistema di sicurezza no è un database messo in sicurezza diciamo così nel senso in cui ti ho spiegato poi devi considerare che è pubblico ovviamente tutti avendone una copia ne conoscono il contenuto quindi se cerchi la sicurezza intesa come diciamo inaccessibilità ai dati stai cercando probabilmente nel posto sbagliato ecco a holloman dice che il fatto che sia lenta non è un problema è una features quindi è un punto avvantaggio perché se fosse veloce sarebbe meno sicura il termine blockchain è creato posteriori no non è creato posteriori il termine la blockchain esiste da molto prima del bitcoin e che il fatto che non ho nomini sì è vero è vero ma insomma sì va bene oh giuseppe long 87 grazie mille per le pastigliette che hai usato per dirmi che cazzo ne sai di cripto giusto sì lo so che eri ironico l'avevo capito io e mi vorresti far credere che lanza tiene un registro dei suoi articoli pieni di errori tutto marketing o magari lo fanno davvero è sai ci sarà arrivato quello del marketing che ha detto affega blockchain ma sbaglio oppure il giochino è valido finché l'algoritmo di criptaggio di criptografia diciamo è sconosciuto ai membri che fanno parte di questa benedetta blockchain mi so no no non c'entra niente mi so già però automaticamente una domanda qualcuno dovrà pur conoscere questo benedetto algoritmo l'algoritmo è pubblico è pubblico non potrebbe essere che pubblico è diventato padre marronno sì mi piace robin hood l'ho visto al cinema boh può essere il codice di bitcoin è pubblico puoi verificare qualsiasi cosa accada certo perché non deve essere segreto non è scritto nel suo se tu ti riferisci alla funzione di hash anche quella è una funzione matematicamente irreversibile ok non è una funzione reversibile è questo è quella di vabbè ne abbiamo parlato una volta di queste funzioni di criptografia ve lo fate vedere adesso non nella sede però se volete poi ne parliamo comunque tutto pubblico non serve che sia segreto né niente privato si può fare anche senza blockchain il trattamento della cipolla assolutamente con gli stessi problemi peraltro per completezza andrebbe detto che questi use case sono quelli venduti dai cazzari il cui unico business è vendere ferro tipo ibm qualsiasi professionista pure in ambito blockchain ti direbbe che appunto una cagata sì no beh allora potrebbe essere sì però vedi di usi particolarmente illuminati non è che ce ne siano giunti a parte quelli che ho menzionato al momento poi se il professionista dice la tecnologia o la tecnica chiamatela come volete è fantastica chissà cosa possiamo farci io sono d'accordo sono d'accordo con questo e non lo voglio mettere in dubbio non tracci la singola cipolla puoi tracciare la cassetta al massimo immagino che questo faccia tutta la differenza del mondo ansa checker il mentavirus è terribile no ma non è non ha senza farlo non ha senso farlo per la cipolla forse nell'automotive può avere utilità per tracciare componenti delle auto no ma cioè alla stessa maniera degli esempi che ho fatto prima anni fa c'era super hype per l'rfid chip avrebbe dovuto fare lo stesso sostituire codice a barre sarà ma continua a vedere codici a barre esatto esatto il tracciamento dei polli pure ora alfa romeo ha annunciato di salvare i dati della manutenzione dei veicoli su blockchain come nft fanno bene perché qualche fesso comprerò la macchina pagandola 300 euro in più per questo motivo giusto o forse già essendo un alfa romeo mi limiterò a dire che forse qualche fesso la comprerà ok ne troveranno di più di polli che comprano una giulia che costa come un bmw serie 4 e sceglie la giulia però vabbè ognuno ai suoi gusti per carità per carità per esempio in questo caso ha senso conservino anche l'hash del seriale in blockchain per evitare che possano cancellarlo e dirti e no non ce l'ho mai avuto blockchain serie ovviamente i cinesi lo facevano falsificare marchio quant'altro è un dato di fatto esatto lo facevano lo fanno ancora che bello posso mettere posti illegali che incitano a qualsiasi cosa e infatti andrea già detto blockchain lo ripeto poi la categoria peggiore che odio di più sono quelli che dicono blockchain e quelli che dicono green pass li prenderei ammazzate di parole li prenderei ammazzate di parole mai violenza contro nessuno soprattutto in questi tipi di puntate ok però proprio green pass mi manda in bestia e blockchain pure blockchain no no vabbè finisce come parler esatto quindi questa interfaccia dovrebbe avere una cache che tende all'infinito per avere le informazioni di cosa non mostrare quindi dove le installi ah sì funziona così quindi facebook quando tu scarichi l'applicazione di facebook hai dentro tutto facebook nel telefono no ovviamente no interfaccia gira su un server e l'applicazione si interfaccia quel a quel software che gira su quel server la dittatura della maggioranza mi ricorda qualcosa ma infatti la magica blockchain si basa sul presupposto che tutti fanno guerra tutti hai un wallet per ogni blockchain certo sì non è lo stesso tra bitcoin ed ethereum certo 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 ovviamente ma gli address cambiano non puoi vedere le altre operazioni dipende forse su ethereum sì effettivamente su bitcoin se fosse fatta come quella del bitcoin sarebbe invece costante stavo per scrivere ma è chiaro che è un'arma doppio taglio con buona pace dei sette diritti del gdpr certo è anonimo finché non collegano la tua identità al tuo wallet ma c'è modo di mantenere l'anonimato sicuramente ma ti esponi comunque ad un rischio il panettiere può generare più indirizzi di pagamento c'è una bella differenza tra blockchain e blockchain certo sono tutte diverse sono tutte diverse bitcoin funziona come dici tu ma ad esempio monero riesce ad anonimizzare ogni transazione viene messa prima in pacchetti e poi in blocchi ci sono mille certo sì è vero ci sono mille modi di fare le cose chiaramente però in un sistema ipertracciato pubblico e disponibile per tutti ti esponi a dei rischi di privacy che non ci sono altrimenti buonasera a tutti stasera sono in ritardo ok la recupererò bene ottimo con l'nft diventi proprietario dell'immagine che poi sia replicabile perché è un'immagine digitale è un altro discorso ah no aspetta dobbiamo intenderci sulle parole perché per me il diritto di proprietà è disporre di un bene in maniera esclusiva decidere di farci quello che vuoi ma l'esclusività è una cosa fondamentale nella proprietà altrimenti che proprietà è se possono usarlo tutti quello che io possiedo se poi tu hai un'altra concezione di proprietà a me sta bene la parola proprietà nella storia ha cambiato significato milioni di volte io sono particolarmente affezionato al significato che gli do io mi piace ok so che ai comunisti non piace lo so ma a me piace questo significato della parola proprietà e quindi mi ci terrei insomma a conservarlo come dire immagini in effetti sono una trovata commerciale poi la vpn cosa c'entra vpn se non la paga con le correnti tu all'inizio lasci informazione beh non so perché parlate di vpn il record di bipol 69 milioni di dollari per nft ottimo ottimo mentre c'è gente che non può comparsi nemmeno una bottiglia questo è un commento che non ne capisco molto il senso scusate scusami no ma scusa allora secondo te non c'è differenza tra un quadro originale ed uno falso quindi mi stai dicendo che il jpeg linkato dalla scrittura contabilizzata sulla blockchain è l'originale che poi non esiste cioè l'originale cos'è la prima volta che l'ho aperto su questo schermo perché se lo apro un'altra volta su un altro schermo non è neanche più quell'esemplare o se diciamo che è lo stesso allora è lo stesso anche di quello che se lo scarica e fai copia e incolla e non ce l'ha scritto cioè non cercare di spiegarmi che un picasso falso è uguale cioè che l'unico modo per dire che due jpeg sono uguali è stabilire che il picasso falso è uguale a quello vero perché no sono due esemplari diversi ok non sono replicabili per definizione mentre il digitale lo è proprio per definizione quindi tra un quadro originale ed un falso c'è differenza tra un jpeg e l'altro non ce nessuna come la storia adesso dell'acquisto di terra del metaverso a anche se infatti infatti no non puoi fare di un quadro una copia identica in tutto e per tutto non lo puoi fare e se lo riesci a fare se davvero tu sei in grado realmente di fare l'esatta copia molecola per molecola di un quadro e ottieni la copia molecola per molecola identica bene hai sfondato il sistema perché a quel punto il tuo quadro è indistinguibile dall'originale per definizione non è più un falso è l'originale molecola per molecola è identico se te li metto davanti e li scambio due o tre volte tu non puoi sapere qual è l'originale qual è la copia perché sono uguali e quindi sono entrambi originali oppure entrambi falsi capisci qual è il punto altrimenti viene meno cioè altrimenti le parole se le parole hanno un significato diverso allora possiamo dire quello che vogliamo però dubito ok ma una copia della gioconda per quanto fatta bene non l'ha fatta leonardo li creo io acquistare nft e specularci ti può andare bene ma sono d'accordo sia una gran cagata non lo farei mai ci sto abbastanza dentro sto mondo ormai sono molto d'accordo con quello che sta dicendo andrea tutto molto giusto e ragionato tutto molto disagio grazie io e te non lo riconosceremo mai ma un perito lo sgarbi di torno che lo sgama subito sì ma a meno che non sei in grado di fare una copia molecola per molecola identica ma a quel punto non c'è più il falso o non c'è più l'originale o non c'è più il falso sono entrambi falsi o entrambi originali oh bene ma se scende dopo che ti hanno fatto il prestito con il valore precedente è infatti lì l'algoritmo stabilisce cosa fare ho già perso interesse nel creare una cosa che poi va in balia di queste cazzate inculata non lo so ok c'è anche gente che spende 300 mila euro per un quadratino di terra nel metaverso va bene anche quello poi non abbiamo parlato del metaverso ma ne parleremo un'altra volta ho cercato per sicurezza rilasciare un'intervista quando andava portando le foto che loro le fabbricavano sì va bene ma vi state perdendo in un bicchiere d'acqua secondo me se cose fatte con paint 2001 che valgono milioni fanno ridere beh non fanno ridere a chi quei milioni li incassa e probabilmente neanche chi li spende però va bene insomma meno male che c'è qualcuno che invece crede in queste cose nella chat non sapevo nulla di queste cose volevo dire molto interessante riuzaki grazie vale for friends solo paura ma non c'è bisogno di avere paura in questo caso fubiz ciao benvenuto bene sei il primo di un canale non di settore che ha fatto un discorso equilibrato ottimo grazie grazie bene sono contento certificato verde io da completo ignorante devo dire che queste puntate sono fantastiche comunque da quel che so la catena di blocchi così come adesso non esisteva prima del 2009 esistevano pezzi non combinati io so che teoricamente esisteva questa cosa perché alla fine guarda che il concetto è veramente banale cioè l'hash che viene incluso nel blocco successivo non è una grande cioè non è un il problema è che il bitcoin è stato il primo che ha trovato una utilità reale pratica questa cosa puntate lo zabagliano interessantissime anche se ogni volta mi sento come un uomo delle caverne in un mondo in cui le auto volano perché facebook non è blockchain allora a questo punto si torna il fatto che devi cancellare un dato di una blockchain però aspetta questo non mi ricordo più cosa stavo dicendo in quel momento ovviamente oggi ho visto dei sandali fatti di pelliccia pensavo di vedere male ma erano proprio sandali fatti di pelliccia ok ottimo ottimo infatti sono grandi novità per chi ha freddo mamma mia mi piacerebbe capire meglio cos'è esattamente il metaverso va bene ve lo dico velocemente che cos'è il metaverso il metaverso non lo so se voglio farlo vabbè facciamo intanto abbiamo cinque tanto tra l'altro più tardi sarò in un in un ecco se volete alle 22 30 questa sera devo morire di infarto praticamente così è deciso l'udienza è tolta sarò 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 ospite questa sera aspettate che recupero i link del canale di francesco tessarolo che si chiama che si chiama ground zero channel su youtube su youtube ground zero channel alle 22 30 ci sarò anche io quindi nel frattempo vi dico brevemente che cos'è il metaverso è diciamo questa idea di non è un'idea di facebook però facebook adesso l'ha presa diciamo in grande serietà in cui si può si vuole realizzare questo ambiente 3d inizialmente con dei visori di di realtà diciamo virtuale poi tra qualche anno con gli occhiali trasparenti quindi realtà aumentata cioè nella mia stanza vedo uno di voi supponiamo uno di voi che fa il commento io lo clicco e me lo trovo seduto lì al tavolo lo vedo tipo ologramma con gli occhialetti e ci parlo a me sembra una cosa poco più che un videogioco l'idea di zuckerberg è molto fumosa c'è un'intervista con gary v interessante di zuckerberg che racconta questa cosa ma la sua idea è che puoi diciamo interagire con più facilità con meno attrito meglio che in una chat meglio che in un video come stiamo facendo ma cioè non è che sta cosa mi convinca praticamente anche qui questo per esempio potrebbe diventare una cosa di massa potrebbe anche essere potrebbe anche essere possibile possibile perché una cosa figa metti le cose lì il navigatore in macchina ce l'ha in quel modo lì potrebbe essere però francamente mi sembra molto fumosa e i diciamo i gli obiettivi finali mi sembrano un po del cazzo quelli dichiarati da mark zuckerberg ecco mi sembrano molto fumosi non mi sembra che abbia un'idea chiara mi sembra un fesso che cerca di dire delle cose quando lo sento parlare su queste cose qui sarà una mia impressione ma non mi dà un'idea di particolare genialità voglio ringraziare rob che ha regalato un abbonamento vale for friends che ha regalato un abbonamento e forse due in realtà disgusting gato che ha rinnovato l'abbonamento john lucatz che ha rinnovato l'abbonamento e forse marco dfr mentre non c'ero e forse russola ecco grazie per me questa lsd esiste da una vita sì in effetti sì in effetti sì va bene signori vado a sciacquarmi tra mezz'ora se volete mi trovate da tessarolo tessarolo è stato il batterista mi pare della mia banda dell'escenziale quale io non l'ho mai conosciuto di persona perché ho lasciato il gruppo prima che entrassi come piccolo al mondo ah di dove suonavi tu pensavo ok perfetto come si chiama il canale su cui sarai ospite si chiama ground zero channel ground zero channel su youtube ok c'è una puntata in diretta che sta durando già con altre persone io entrerò alle 22 30 grazie per avermi seguito rinnovate i vostri abbonamenti se vi va di sostenere il canale grazie a tutti facciamo un ride a qualcuno da chi vi mandiamo da chi vi mandiamo da smettere di lavorare grande smettere di lavorare lo raidiamo immediatamente seguite il ride perché vi porta punti canale mi raccomando mi raccomando il buon smettere di lavorare il buon francesco eccolo qui ride seguitelo grazie a tutti ci vediamo domani alle 12 e 30 o chi vuole alle 22 e 30 sul canale di ground zero channel a dopo grazie mille buona serata grazie mille buona serata